non vi sembra che nel nostro tempo ci sia bisogno di un supplemento di condivisione fraterna e di amore non vi sembra che abbiamo tutti bisogno di un supplemento di carità non quella che si accontenta dell'aiuto estemporaneo che non coinvolge non mette in gioco ma quella carità che condivide che si fa carico del disagio e della sofferenza del fratello è molto importante l'opera del banco alimentare e va incoraggiata in tutti i modi perché da una parte noi abbiamo un'eccedenza di cibo ma l'eccedenza di cibo diventa indispensabile per chi non ha cibo frente al aumento della demanda di alimenti è preciso che i frutti della terra stai a disposizione di tutti per alcuni bastaria con disminuire il numero delle bocate che alimentare e di questa maniera si risolveria il problema però questa è una falsa soluzione se tiene in conta il livello del desperdicio di comida e i modelli di consumo che malgastano tantos recursos. Reducire è facile. Compartire in cambio implica una conversione e questo è exigente. la colletta è un gesto non solo importante ma direi che è un gesto di giustizia e fa sempre più piacere vedere che tutti gli anni questo gesto diventa più popolare vi partecipa la gente di ogni età di ogni condizione sociale e di ogni religione e questo è molto bello perché in fondo poi ecco mentre fai la spesa per la tua famiglia acquistare anche qualche cosa per i più poveri in fondo non te ne accorgi nemmeno e poi fare un ben immenso a chi è veramente nelle necessità. Condividiamo quel che abbiamo nella carità cristiana con chi è costretto a affrontare numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno così primario e al tempo stesso facciamoci promotori di un'autentica cooperazione con i poveri perché attraverso i frutti del loro e del nostro lavoro possano vivere una vita dignitosa. Quando io incontro una persona che mi dice ho fame mi viene istintivo dargli quello che ho e soccorrerla nella sua necessità ma non si tratta ad aiutare soltanto delle singole persone con questa colletta del banco alimentare veramente si può venire incontro alle necessità di tante persone.